è cambiata ma è rimasta sempre uguale a se stessa almeno nell'apparenza se ben ricordate l'abbiamo già provata un anno fa ma allora era soltanto la versione con il motore 2 litri da 190 cavalli questa volta però facciamo un salto di qualità 6 cilindri 3 litri per una diesel al top della gamma da 286 cavalli ampiamente in zona superbollo purtroppo per l'esattezza 683 euro e 70 di tasse l'anno è l'audi q5 s line plus basata sulla piattaforma mlb evo per intenderci quella dedicata ai modelli con motore longitudinale che abbiamo già visto per esempio per l'audi a4 e q7 lasciamo dunque da parte gli esterni perché nulla è cambiato rispetto ad un anno fa ma se siete proprietari di una q5 di prima generazione per intenderci quella costruita in germania allora sì che noterete delle differenze e questo non perché sia costruita in messico perché si nota che regnare è la tipica razionalità tedesca ma perché salendo a bordo si notano subito tante differenze rispetto al passato la plancia per esempio è stata letteralmente rivoltata come un calzino e ora è nel solco di quanto abbiamo già visto e apprezzato sui modelli della casa presentati negli ultimi tre anni tasti sima nella giusta misura e poi spazio al virtual cockpit e a uno schermo da 8,3 pollici stranamente gli unici dati che rimangono esclusi dal virtual cockpit sono i livelli di segnalazione della temperatura dell'acqua e del gasolio a questo punto mi domando perché non siano stati integrati anche loro all'interno del virtual cockpit che si gestisce molto semplicemente tramite i comandi al volante una cosa che mi piace molto fare quando un navigatore in funzione è ridurre i minimi termini contagiri e tachimetro così in questo modo posso vedere la mappa bella grande anche se devo dire che è ancora più comodo è vedere il percorso indicato sull'head up display davanti a me è un optional un po caro ma sempre molto utile lo schermo centrale invece si gestisce tramite il touchpad posto davanti al cambio su quale si può appoggiare il polso per arrivare più comodamente a scrivere ad esempio una nuova destinazione le giunture dove non passo un capello e il design sono perfetti un po' meno invece lo sono i materiali considerando che questo è il top della gamma dopo la sq5 che abbiamo provato nelle scorse settimane vedete i rivestimenti della plancia solo quelli della parte superiore sono semi morbidi per il resto è tutta plastica rigida una piccola caduta di stile per i quattro anelli che però si riscattano con piccoli dettagli che non ti aspetti per esempio i tasconi delle portiere anteriori hanno al loro interno un tappetino in gomma che si può rimuovere e lavare al posto guida si viaggia comodi a 62 centimetri d'altezza una via di mezzo tra la jaguar e face e la mercedes g lc con la possibilità di scegliere la posizione che vi piace di più grazie alle regolazioni elettriche la visibilità è buona il fatto che gli specchi retrovisori siano montati sulle porte aiuta vista e comfort e questo perché in autostrada causano meno rumore rispetto a quelli applicati sul montante in più ci sono sensori e telecamere che vengono in aiuto soprattutto in manovra da guidare la q5 è molto piacevole il 3000 tdi è silenzioso privo di vibrazioni e si fa apprezzare perché è impetuoso nonostante sia un po in sovrappeso ricordiamo infatti che la q5 supera le due tonnellate nello 0 100 spunta un buon 6.1 secondi e sempre 6 secondi sono quelli che le occorrono per raggiungere 120 km orari da 70 all'ora davvero niente male e questo grazie all'azione prontissima del cambio anche il comfort è eccellente su qualsiasi tipo di asfalto e questo grazie alle sospensioni pneumatiche ad aria sono regolabili tramite settaggi drive select in base alla modalità di guida prescelta permettono alla q5 di assorbire al meglio tutte le asperite dell'asfalto senza però andare a compromettere la sua capacità di limitare il rollio sono un optional ma perfette per chi abita in località dove magari l'asfalto non è sempre perfetto oppure se vi piace guidare con un assetto un po più controllato buoni risultati anche in frenata perché alla q5 bastano meno di 40 metri per fermarsi da 100 km orari il cambio tiptronic permette cambiate quasi senza interruzione della spinta e questo rende la guida davvero molto fluida lo sterzo invece manca un po di incisività ma ben si adatta a questa q5 riguardando la prova dell'anno scorso ho notato che molti di voi hanno chiesto informazioni circa l'abitabilità posteriore e il bagagliaio quindi guardiamo subito insieme questi due aspetti sul divanetto posteriore si viaggia comodamente in due volendoci postare anche la terza persona ma complice anche la presenza della trazione 4x4 è meglio che il quinto passeggero sia un bambino non manca davvero nulla ci sono le bocchette dell'ariazione con il controllo della temperatura la presa per ricaricare i dispositivi elettronici e se si viaggia in quattro c'è anche un comodo bracciolo con portabicchieri come vedete di spazio ce n'è in abbondanza anche per i passeggeri più alti nessun problema per gambe e testa ma ora andiamo a vedere il bagagliaio la capacità di carico di 464,6 litri meno rispetto alla porsche macan ma più delle altre concorrenti X3, F-Pace e Stelvio a bordo di un'auto come la Q5 non possono mancare i sistemi di assistenza alla guida ce ne sono in abbondanza tutti molto utili e precisi però va detto che molti sono optional sull'esemplare in prova ci sono ad esempio il Gem Assist che alle basse velocità permette di mantenere andatura e direzione in maniera autonoma e rilevamento veicoli nell'angolo cieco la cui presenza viene indicata in maniera molto evidente qui sugli specchietti retrovisori la media dei consumi non è certo da perfetta cittadina ma stiamo pur sempre parlando di un'auto davvero massiccia con un motore 3 litri turbodiesel eccovi comunque i dati rilevati dal nostro centro prove la media è di 11,1 chilometri con un litro che in città scende a 9,8 chilometri con un litro anche il prezzo non è dei più bassi per la top di gamma che guidando oggi infatti occorrono 65.300 euro ma per la entry level il prezzo base è di 44.400 euro riassumendo possiamo dire che la q5 di certo non colpisce per le sue linee ormai davvero molto note però è un buon mix tra prestazioni assistenza alla guida e tecnologia ed ecco qui riassunti i suoi difetti e i suoi pregi lo starso meriterebbe una risposta più pronta e il bagagliaio ha qualche limite ottime invece le prestazioni del 3 litri e la plancia è sempre da 5 stelle allora cosa ne pensate di questa q5 attendo i vostri commenti alla prossima ciao